Cosa le è piaciuto del ritmo della pizzica e nell'interpretare i brani della tradizione popolare salentina? Cosa le è piaciuto del ritmo della pizzica? Mi piace molto il ritmo e il sonno delle voce, le voce italiane del sud, ovviamente la mia voce è un po' diversa, ma mi piace essere nel medio di questo e partecipare. E anche cantare due cani greco, quindi c'è anche una ruta da Grecia qui, in questo ambiente di tutte queste ritmo e queste performanze live. Mi piace cantare la pizzica anche se la mia voce è un po' diversa dalla tipica voce femminile della pizzica, però alla fine ho anche cantato in grico e canterò in grico due canzoni e comunque ci sono delle radici greche nella vostra tradizione e quindi anche nella loro. Cosa ha pensato quando è stata chiamata come ospite da Ludovico Einaudi? Cosa ha pensato quando è stato chiamata come ospite per partecipare in Notte della Taranta? Cosa ha pensato quando è stato chiamata? molto bene queste canzoni che vengono da questa area, io sono un straniero. Non davvero un straniero. Grazie.